Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo! Faccio questo video diverso dal solito un po' per scusarmi con voi per la mia assenza di questi ultimi giorni ma mi sono dedicato a un hobby a cui non mi dedicavo da molto tempo, che è l'hobby del cosplay perché, se non lo sapeste, sabato 29, domenica 30 gennaio 2022 c'è stato il Festival del Fumetto presso il Parco Esposizioni di Novegro in provincia di Milano poi vi metto qua tutte le informazioni, qua sotto in descrizione ovviamente e ci tenevo a portare un vecchissimo cosplay che avevo acquistato in tempi non sospetti nel 2014 folgorato dalla cotanta bellezza di questo costume e presi appunto quello che vedete alle mie spalle che è il costume di Spider-Man di Andrew Garfield poi ovviamente cos'è successo? che il secondo film non è piaciuto ai più tanti l'hanno criticato poi è stato ributtato di nuovo, è arrivato Tom Holland io nel frattempo il cosplay lo avevo abbastanza modificato senza concluderlo e quindi è andato nel dimenticatoio, così come la mia passione e pazienza per il cosplay però, complice anche No Way Home, ho rispolverato questa mia passione, questo cosplay e sono stato molto felice domenica di aver avuto l'occasione di fare parte del multiverso ho incontrato tante persone vestite da Spider-Man c'erano altri Spider-Man di Andrew Garfield un paio ne ho visti c'erano degli Spider-Man di Tom Holland c'erano un paio di Spider-Man Noir c'erano un paio di Spider-Man Morales anche di più se non sbaglio c'era qualche Spider-Gwen sono stato davvero felice con alcuni di loro sono riuscito a fare un gruppo improvvisato di cosplay siamo saliti sul palco del sabato dove c'era una gara non competitiva fondamentalmente se avete seguito la mia live su Twitch di giovedì dove Money Night che ha presentato ci spiegava appunto come è stata strutturata come sono state strutturate le due giornate di sabato e domenica se no ve lo dico adesso velocissimamente sabato c'era una... si poteva salire liberamente sul palco senza iscrizione semplicemente a mostrarsi e poi invece la domenica c'era una gara che a sua volta poi è stata divisa tra cosplay professionisti e beginners diciamo quindi ci sono state tre sfilate fondamentalmente noi abbiamo fatto così quella un po' pazzerella del sabato sono stato davvero molto felice ho incontrato e conosciuto delle persone nuove che ringrazierò qui sotto così potete anche eventualmente guardare i loro profili cosplay ho anche incontrato un paio di youtuber e metto sempre qua sotto in descrizione i loro canali youtube così potrete vedere i loro canali potete vedere anche eventualmente la mia presenza nei filmati che hanno fatto ovviamente in quella tenuta chiaramente non mi si vedrà in volto perché avrò la maschera che adesso sta tenendo Pupi in questo momento però chiaramente dalla voce magari potreste capire che sono io e sempre parlando della live che abbiamo fatto su twitch giovedì sera giovedì 27 oltre a money night come ospite avevo anche valentino notari che ha scritto cosplay girl vi metto qua sempre in descrizione il link amazon per poter acquistare il suo libro ma se foste stati alla fiera di novegro avreste potuto incontrare direttamente lui che vi avrebbe fatto anche la dedica e questo magari varrà anche per le prossime fiere però diciamo che io comunque ve ne parlo così vi metto la curiosità se volete acquistare anche su amazon il suo libro potete tranquillamente farlo il libro è un romanzo quindi è un racconto di fantasia che coinvolge un po' le vicende di questo fantastico mondo del cosplay vissuto poi tra l'altro da Valentino che di cosplay ne sa parecchio è immerso a piene mani in questo mondo del cosplay e si capisce tantissimo anche solo dalla prefazione tutto l'amore che prova per questo mondo io ho capito da poche righe perché ho letto la seconda di copertina ho già letto le prime pagine che è un racconto che ti appassiona subito quindi io spero poi probabilmente per la prossima fiera il mio video post fiera sarà anche probabilmente magari una diciamo una recensione un riassunto una mia impressione perché io non faccio poi delle vere recensioni non essendo un esperto di nulla fondamentalmente quindi vi dico la mia impressione quello che mi dà l'opera di cui leggo quindi magari nella prima oppure subito dopo la prossima fiera a cui parteciperò approfitterò anche per fare la recensione di questo libro in modo che se sarà alle prossime fiere vi incuriosirò per andarlo a prendere a maggior ragione poi come sapete questo canale va per la maggiore con i fumetti di Dylan Dogg e di Samuel Stern che però chiaramente per le ragioni appena citate non ho ancora letto li ho acquistati oggi in edicola con molta calma non tantissima perché comunque sono molto curioso li leggerò tra oggi e domani mercoledì uscirà un video e venerdì uscirà l'altro video mi scuso anche per gli appassionati delle tartarughe ninja perché sabato non è uscito il video settimanale sul riassuntone sulla mia retrospettiva sulle tartarughe ninja dell'IDW uscirà questo sabato anche quello quindi abbiamo saltato un altro sabato mi dispiace però pian pianino arriveremo a pari con il numero 52 i prossimi video che usciranno saranno appunto anche il 52 delle tartarughe ninja che dovrebbe arrivare in edicola adesso a febbraio e il primo volume della stagione 10 di Buffy anche perché io ho finito di fare il mio riassunto dalle stagioni precedenti a fumetti che potete trovare sempre sul mio canale nella playlist dedicata a Buffy e una volta che avrò finito di leggere il primo volume farò la recensione farò il riassunto di quel primo volume e poi ci concentreremo sui successivi se non sbaglio sono tre volumi per stagione ma potrei sbagliarmi adesso vedremo la salda press come li pubblicherà se siete curiosi di sapere come è andata come le impressioni che ho avuto a caldo su questa che per me è stata una sorta di prima fiera post pandemia anche se in realtà c'è stato anche Rimini Comics c'è stato la Milano quella di Bustor Sizio però questa forse perché sono andato in cosplay dopo tantissimo tempo l'ho sentito un po' come la prima vera fiera dopo la pandemia se volete un'impressione a caldo andate sul mio profilo Instagram iscrivetevi già che ci siete e guardate il mio ultimo post in cui ringrazio un po' tutti approfitto per ringraziare anche qua non so se mi ricorderò tutti i nomi ma cerco di di riassumerli un pochino ringrazio allora Federica Doctor Strange ringrazio Piero e Selene rispettivamente Spider-Man di Peter B. Parker di Into the Spider-Verse e Miles Morales di Into the Spider-Verse Andrea di Into the Spider-Verse Spider-Man Spider-Man noir Giuseppe Spider-Man di Tom Holland nella versione di Spider-Man Far From Home almeno il giorno in cui il primo giorno in cui ci siamo visti il giorno dopo ho fatto la versione di No Way Home la versione finale di No Way Home andate a seguirlo sul profilo ringrazio Sara che con noi ha fatto Loki ha partecipato alla mini sfilata sul palco in veste di Loki nella giornata di sabato nella giornata di domenica ha fatto Historia da Attack on Titan e ringrazio i vari Deadpool con cui ho collaborato ci sono stati tre Deadpool con cui ho avuto occasione di avere uno scambio di foto filmato appunto una scenetta ma non ricordo i nomi quindi se vedete questo video palesatevi scrivete sotto nei commenti anche i vostri profili eventualmente cosplay così eventualmente vi vanno a seguire anche lo Spider-Man di Tobey Maguire che ho incontrato domenica che se non sbaglio il suo profilo è Stan Cosplayer ve lo metto qui sotto eventualmente e in generale ringrazio tutti ringrazio il mio amico Mario che è venuto con me nella giornata di domenica nel suo immancabile cosplay di Super Mario ovviamente e anche tutte le persone appunto che ho avuto modo di vedere anche per pochi secondi scambiarci una parola ringrazio Zina che è stata anche lei in live giovedì sera che sono riuscito a vedere sia sabato che domenica ringrazio anche appunto Monny e Valentino che ho avuto l'occasione di salutare anche in fiera vi ricordo sempre di iscrivervi anche al mio canale Twitch che è gratuito è tutto gratuito dovete solo iscrivervi e mettere segue al mio canale ci sono delle live l'ultima è stata appunto sul cosplay e potete recuperarla anche successivamente vedete diciamo questa sorta di intervista molto informale a Valentino Zina e Monny chiaramente se fosse stati in live avreste potuto partecipare un po' più attivamente anche in chat però comunque potete recuperarla successivamente in modo molto tranquillamente aperto a tutti che dire ragazzi io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video alla prossima live e alla prossima fiera del fumetto ovviamente rigorosamente in cosplay da ora in poi no beh rigorosamente non lo so però ci terrò a fare cosplay un po' di più come facevo prima grazie e arrivederci a presto 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 a presto